Buonasera, si è appena concluso la presentazione del libro, l'Una Nuova e il recital di poesie dialettali. Ci troviamo a Piazza Municipio, a Bova Marina. Accanto a me lo scrittore Bruno Salvatore Lucisano. Buonasera. Buonasera a voi. Siamo ritornati a Bova, ritorno da ogni anno ormai da 12 anni con i poeti in piazza. Sono stato accolto, mi pare già dal 2002, dal compianto Professore Crupi e diamo il nostro piccolo apporto per quello che possiamo, per mantenere vivo il dialetto e portarlo, come ho fatto io a Palizzi, nelle scuole, possibilmente quando riusciamo, per rimanere legati alle vecchie tradizioni e ai vecchi modi di dire dei nostri avi, dei nostri nonni, di chi ci ha preceduto, per rimanere attaccati alle radici, al territorio, per non disperdere nel vento cose anche importanti che dovremmo conoscere e anche io dovrò ancora conoscere, ma studio ormai da anni e spero di poter andare avanti con questo lavoro, non solo di poesia dialettare, ma di scrittura e di convegni che facciamo in giro, appunto per tenere vivo questo dialetto, il nostro dialetto, che poi è la nostra cultura e la nostra tradizione. Lei ha scritto moltissimi libri, vincitore di notevoli premiazioni, anche presente in numerose antologie anche nazionali e nel corso appunto dell'evento abbiamo ascoltato dei versi in cui fanno riferimento a dei temi molto importanti come l'immigrazione, la terra di Calabria, le donne, tutto trattato e con la lingua dialettale, quindi il nostro dialetto calabrese. In tutto questo c'è anche una voglia di conservazione di quella che è la nostra cultura, quella dell'area grecanica, che piano piano si sta smarrendo. E' chiaro che è tutto conservazione, se noi riusciamo a portare avanti questo discorso, a continuare come stiamo facendo, man mano più pochi in verità, però dando spazio a quelli che vogliono continuare a farlo, noi siamo sempre pronti a farlo. Lei parlava di premi, io non parlo di premi, le posso indicare una delle maggiori soddisfazioni che è stata nel 2010 con il Nosside, dove su 353 poesie la mia poesia Canellupara è stata tradotta in cinque lingue, perché è stata premiata, il fatto importante è questo, che quando mando le poesie al nord non le leggono in dialetto calabrese, le leggono tradotte in lingua italiana, quindi noi dobbiamo stare attenti anche non solo a rispettare il dialetto, ma che la poesia abbia dei contenuti, che possono essere civili, che possono essere della vita comune. La poesia popolare raccoglie un po' tutto e se la prendo ogni tanto con la politica, con tutta la politica. Deve cercare di non essere di parte. Io la satira di parte non l'ho mai apprezzata per questo. Io penso che la satira, o la poesia popolare, o lo scherzo, o lo scherno, l'ironia deve essere a libertà di pensiero, nella maniera più assoluta, perché quelli schierati in qualche modo che parlano male di una persona, perché stanno da un'altra parte, quelle per me non fanno satira ma scrivono barzellette. Questo è quello che penso in generale, non si offenda a nessuno, ma io la vedo in questa maniera. Se uno ha da dire qualcosa di scherzoso, di satira, di scherno verso qualcuno, lo deve fare liberamente. Se no vuol dire che in qualche modo o ha dei patroni o in qualche modo è condizionato dalla vita che fa, o dal lavoro che fa, no? Che dice lei? Vuole che lei intervisti? Sicuramente sì, ha perfettamente ragione. utilizzare la satira, anche una certa ironia per portare a luce alcuni punti oscuri della nostra terra, anche delle argomentazioni che, ahimè, a volte vengono messe un po' nell'angolino. E a proposito di libertà di pensiero, mi viene in mente un grande, o non so come definirlo perché è veramente molto grande, il professore Pasquino Crupi. Il professore Pasquino Crupi, come dicevo durante la recita di poesie, mi ha accolto nel 2003, dopo aver letto due libri, perché dopo Una carizzo e una parolazza, che è fatto un po' senza metrica, sconclusionato, sai, il primo libro, la corsa al primo libro, che poi io scrivo da 15 anni, c'erano 62, quindi mi sono svegliato troppo tardi, nel senso che ho voluto avere un po' di esperienza prima di fare queste cose. Una volta che mi ha accolto, mi ha apprezzato, e poi la maggiore soddisfazione me l'ha data, ecco non voglio parlare di premio, ma poi devo cadere sempre là, me l'ha data nel 2013, quando ha voluto assegnarmi il pericadoro per la poesia, con una motivazione che io, se mi dà un attimo, non ho gli occhiali, vorrei leggere un attimo. No, la voglio leggere solamente perché è detta da una persona come lui e da una penna come la sua. Poeta e scrittore fa i più acuti osservatori della società calabrese, di cui descrive con pacata saggezza il costume, le tradizioni, la cultura, ma anche gli aspetti negativi che incombono su una terra che reagisce con civiltà e coraggio, per la passione e la valenza intellettuale che contraddistinguono il suo lavoro. Ecco, dopo queste poche righe potrei anche smettere di scrivere, ma è anche il suo pensiero, la sua forza, per quanto amava la poesia dell'Ottale, per quanto amava Boa Marina, per quanto amava la Calabria, la sua terra come meridionalista, perché sì, lui era un uomo di sinistra, era il vecchio comunista che quando gli dicevo, professore, siete perfetto, peccato che siete comunisti, lui si, non so il termine, ma non si, stavo usando un termine che non potevo fare per il micofono, comunque mi diceva, no, guarda che io non sono comunista, sono anarchico, e allora, tanto per ridere, perché poi andava sempre sullo scherzo, era una persona eccezionale, di una cultura eccezionale, poi aveva, io vado ai convegni, ma lui aveva lo charme, aveva la dialettica, aveva la simpatia, anche nella sua cattiveria, a certe volte, perché se non ci voce c'è una genio, povere noi, però era una persona a cui si stava assieme, anche quando era arrabbiato, anche quando aveva qualcosa che non gli andava a genio, e poi io sono stato con lui fino all'ultimo giorno, dove ha sofferto un po', e dove un giorno scriverò qualcosina su questo, non vi anticipo niente, ma non so se è stata un po' la debolezza del fatto di accorgersi che stava completando il suo percorso, ma qualche battuta che si stava avvicinando al cielo, o alla Madonna, o a qualche cosa, me l'ha fatta, però devo capire bene che cosa mi voleva dire, perché lui era, come tutti del resto, era attaccato molto alla vita, lui la viveva fino in fondo, l'amava molto la vita e amava quello che faceva, con i pregi e i difetti di tutti, tutto qua. Sicuramente lui sentiva che il momento si stava avvicinando, da persona molto intelligente, poi ricordiamo che lui è uno dei personaggi che ha portato in alto la cultura calabrese, la questione meridionale, sicuramente nelle pagine del libro, in una poesia che ha avuto modo di ascoltare, canto di immigrazione, si evidenzia una certa malinconia, nostalgia, di quello che poi i valori calabresi vengono messi un po' da parte, e soprattutto poi quando un calabrese lascia la sua terra per andare a cercare fortuna altrove. Io non a caso ho ripreso il canto dei nuovi emigranti di Franco Costabile, l'ho tradotto in dialetto proprio per mantenerci sulla linea della serata, ma l'ho fatto per una specifica ragione. Il discorso dell'emigrazione, da noi che adesso ci stiamo preoccupando di questi arrivi, quando è che è finito? Se noi andiamo a vedere quando ha scritto questa poesia Costabile e vediamo i giorni nostri, cosa è cambiato? Ecco perché io sono partito con Costabile, l'ho voluto tradurre, l'ho voluto aggiustare, non l'ho tradotto tutta che è molto più lunga, però la sentiamo Cassa del Mezzogiorno, la sentiamo Lupara, la sentiamo tutto quello che c'è oggi ancora, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. E i piccoli centri che ci stiamo affascendando per far passare queste grandi strade, per arrivare prima a Reggio, questi paesi, ho paura, come Palizzi, Bova Marina, già Bova Marina in parte perché è attraversata già dalle strade, ma Branca Leone rimarranno come i paesi interni, paesi estivi, questa è la mia opinione, le strade vanno bene, ma bisogna fare qualcosa per questi paesi che stanno già morendo come sono morti già i paesi interni, che stanno cercando ancora di risvegliare con finanziamenti, con cose, ma qua è cose che riguardano la politica e io di politica non capisco. C'è stato un omaggio al paese di Branca Leone, dei paesaggi selvaggi, proprio come la Calabria poi, secondo lei non dovrebbero essere rivalutati? Certamente sì, qua bisogna vedere come spendere i soldi e spenderli bene, ma questo, le ripeto, è un mestiere della politica e dei politici, e purtroppo, a certe volte, dei politicanti. Però, voglio dire, per quanto riguarda il filmato che ha visto di Branca Leone e opera di Carmine Verducci, che è presente alla Prologo, che mi segue in questa corsa, in questo percorso. Niente, sì, devono essere rivalutati i centri storici, va bene, io sono nato a Staiti, adesso è bello, hanno fatto la piazza, le nuove strade, tutto quello che volete, però io non so se riusciamo poi a portarci la gente lì, perché lui stiamo parlando di un paesino che negli anni 50, 40, adesso non ricordo perché la storia non la studio perché non ho memoria, no comunque, Staiti in un certo periodo aveva quasi 1800 abitanti, ora parliamo di 220 elettori, quindi noi possiamo andare sicuramente a investire in questi vecchi centri, non sono io a dire di no, non sono io a dire di non andare a sistemare i rogudi, di non andare a sistemare i centri dell'area che canna, assolutamente sì, se ci sono i finanziamenti, i soldi ben vengono, il problema è di trovare le condizioni di portare le persone, se io vado a spendere dei soldi adesso per il castello di Palizzi, sopra quella rocca abbandonata o quello di Roccella, sì, ma poi devo parare le condizioni che quando è sistemato qualcuno ci entri, se no ho spesso dei soldi, quello tra 100 anni cade di nuovo, poi c'è l'altro politicante che riporta un'altra volta i soldi, però qua forse c'è bisogno di soldi più del castello da qualche altra parte, ma questo io non faccio politica, è un modo di pensare mio. Sicuramente uno di questi appuntamenti inerenti alla cultura può essere anche un modo per vivagizzare, per dare un certo stimolo. Assolutamente sì, io ripeterò, io ritornerò qua a Bovo con i poeti in piazza il giorno 11, assieme al professore Sgro e alla professoressa Oro, mi pare che ci sia non so chi altro perché è saltato il giorno 4, poi ritorno qua il 25 c'è il premio Mico Pelle istituito dal professore Grupi che è alla quarta edizione, le prime tre edizioni mi pare che sono state assegnate a Zurzoro, a Brefori e al Polo Oro, a Luciano Nocera, che era un altro dei poeti in piazza di Motticella e niente, il 13 ci sarà la grande presentazione mia perché nel mio paese, anche se sono una testa, ormai il mio paese a Brancalone abito lì da mezzo secolo e quindi il giorno 13 l'appuntamento in piazza Municipio a Brancalone per recitare di luna nuova e lì saranno presenti i poeti in piazza, sarà una cosa molto più ampia di questa, di quella stasera, ci sarà pure l'attore Antonio Caraccelo dove reciteremo assieme sia lui Cannellupara e assieme reciteremo Uvento e Uvecchio che è una vecchia poesia scritta da me, una delle prime poesie dei miei inizi. La ringrazio e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi molto gentili e in bocca al lupo per il vostro lavoro, anche voi fate un lavoro importante per dare eco a questa terra che un giorno riusciremo a risollevare. Speriamo!